Amici, qui ogni giorno ce n'è una. L'Antitrust ha multato Lidl per un inganno sulla pasta. Per circa 30 mesi è stata omessa l'origine del grano che era anche proveniente dall'estero, non solo dall'Italia, su due marchi venduti dalla Lidl. L'Antitrust ha dichiarato questo e ha multato la catena di supermercati tedesca proprio sull'origine del grano, su una cosa su cui noi spesso rifletteremo nei nostri video e per legge va dichiarata sulla confezione l'origine del grano duro. L'Antitrust ha accertato questa truffa e ha multato la Lidl. Nella descrizione del video metto l'articolo di fanpage da cui ho preso questa informazione. Occhi aperti, a presto!